ericata è la stanza e' un contenitore di biorischio e' un po' di chiama gioco le finestre, vi mettete due minuti sotto le finestre il nemico ha individuato il contenitore di biorischio passatevi un po' di aver pronto c'e' una botola qui sopra vado a farmi cammela me la puoi solamente me la potete solamente spostare l'ho visto siamo a 10 secondi nooo chi e' black ha crashato black non abbandonare la zona della missione imboscata pronta il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio e' grave qui sono i dubbi dispositivo nooo ce l'aveva bene che cosa no ma li aveva lasciati ah quindi se li portati quando è crashato eh si perchè quando crashi ti salta anche e' innescato e' innescato e' innescato e' innescato per in vero no 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 ascolto non ah vabbè devo lasciarlo libero quello per sparare si esso andiamo da dove arrivano bella lì però doppia dove l'avevi piazzata però morto morto un altro morto arrivando alle scale non l'ho ucciso io c'è uno scudo eh ragazzi sento uno scudo c'è stato individuato addio scudo batterfeer rule addio scudo bella lì doppia bella 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 bella